cari amici di visione tv benvenuti a un nostro nuovo approfondimento sono contento di presentarvi il nostro ospite in collegamento da roma è tornato franco fracassi ciao franco ciao ciao a tutti ecco franco fracassi ha una capacità di scrittura invidiabile non facciamo in tempo a finire un' intervista su uno dei suoi lavori che già siamo pronti per presentarne un altro oggi parliamo di 11 settembre si avvicina il ventennale di questa data che ha cambiato il mondo tante cose non sono state ancora raccontate quelle che sono state raccontate di sicuro sono state raccontate in maniera parziale o chiaramente manipolata vediamo i libri di lavori sull'argomento di franco fracassi ecco questo è uno burning down l'incredibile storia di come si arrivò all'11 settembre e l'altro invece è dei spiles franco fracassi e paola pentimela testa dice da washington al donbass la storia segreta del califato con prefazione di giulietto chiesa franco in questi giorni biden ha spiegato che riuscirà a desecretare alcuni documenti quindi evidentemente di segreti ancora ce ne sono per quanto il mainstream si sforzi di dire che è tutto chiarissimo a si di segreti ce ne sono bisogna vedere che cosa che cosa riveleranno questi documenti perché ho come l'impressione che alla fine ogni volta che vengono dei segretari documenti o è troppo tardi oppure i documenti non dicono assolutamente nulla e io credo che diciamo questa seconda possibilità sia quella più probabile quindi è soltanto una manovra diciamo che arriva in termini di marketing dopo la rovinosa fuga dall'afghanistan si serve a distrarre l'attenzione insomma hanno fatto una tale figuraccia che qualcosa doveva pur dire gli è venuto incontro l'undici settembre una grande occasione c'è il ventennale quindi tutti quanti diciamo non si parlerà d'altro almeno per due settimane negli Stati Uniti e quindi Biden vuole tornare a essere un personaggio positivo e non un personaggio molto negativo così come è apparso nella vicenda afghana e con i tuoi lavori che ricordiamolo sono delle inchieste fatte sul campo cosa hai scoperto tu franco di tacitato dal circuito prevalente scoperto talmente tante cose che poter scrivere in un'enciclopedia che fare dei libri e dei film così come ho fatto noi alla io personalmente ho incominciato a indagare sull'undi settembre in questa maniera il 13 settembre del 2001 perché all'epoca lavoravo per un'agenzia di stampa che si chiama Associated Press la più importante agenzia di stampa del mondo ed è statunitense per l'edizione italiana tant'è che fui la persona a dare la notizia degli attentati dell'undi settembre in Italia fui io a dare quella notizia per questo motivo l'agenzia mi affidarono il compito di seguire le indagini bene le indagini terminarono il 13 settembre cioè esattamente due giorni dopo dopo due giorni già si sapeva tutto ovviamente è ovvio è scontato che dopo due giorni è impossibile secondo me era impossibile anche sapere un solo una sola cosa più grarsi tutto e quindi presente mi si è acceso qualcosa in testa per dire no mi hanno preso in giro ci hanno preso in giro a tutti quanti e quindi è il caso forse di indagare tant'è che tre anni dopo io mi sono licenziato dall'agenzia di stampa per poter fare seria e portare avanti seriamente le indagini perché ovviamente queste indagini che fino a quel momento erano state su documentazione varia o cose pubblicate improvvisamente devono cambiare di livello cioè andare in giro quindi non potevo lavorare o lavorare con l'agenzia di stampa o indagare l'undi settembre mi sono licenziato e ho cominciato a girare letteralmente il mondo ci sono voluti tre anni per fare l'inchiesta per zero fatta insieme anche a Giulietto Chiesa e per fare quell'inchiesta abbiamo veramente girato paesi tutti i continenti e intervistato decine e decine di persone tra testimoni persone che erano a conoscenza di fatti protagonisti delle vicende esperti di vario genere abbiamo letto migliaia e migliaia di documenti abbiamo visionato tantissime immagini inedite e abbiamo scoperto anche delle cose visionando quelle immagini abbiamo ascoltato tantissimi audio ovviamente il film è di un'ora e mezzo un'ora e mezzo sono circa 20 25 pagine di sceneggiatura quindi insomma era veramente riduttivo e quindi abbiamo deciso di fare un sequel di quel film che si chiama one che l'inchiesta su al qaeda e in questa inchiesta su al qaeda ovviamente che parla in generale di al qaeda c'è una parte molto consistente che parla l'11 settembre oltre al fatto che parlando di al qaeda si spiegano molti meccanismi l'11 settembre ma non bastava e quindi mi sono messo anche a lavorare per un libro ecco lanciamo in sovraimpressione qualche immagine di questi tuoi lavori e poi ci dirai anche come la gente può acquistarli e può vederli ecco il frattempo che la riccia è esattamente mi sono messo a indagare per fare un libro e commentare mentre scorrono le immagini franco ecco queste qui sono immagini che non ha senso commentare per il momento quando scorreranno quelle giuste questa qui è l'immagine del dello schianto e il film zero inizia con il la testimonianza di una persona che ha telefonato al 9 1 1 negli stati uniti per dire che stava stava morendo semplicemente la testimonianza di una persona che stava bruciando quasi viva nelle in una delle due torri del world threat center dicevo la al che mi sono messo a indagare anche su come è stato organizzato il libro burning down 9 11 è esattamente la storia di come è stato organizzato l'11 settembre una storia incredibile ci sono ovviamente alcune cose quasi surreali il film intanto zero continua così sono lasciamo andare le immagini nel frattempo discutiamo del resto ecco franco diciamo una cosa tu dici ci sono delle cose incredibili qual è la cosa più incredibile di tutte ne posso dire tre prego sì allora la prima sono tre cose diciamo che apparentemente potrebbero sembrare collaterali ma invece danno il senso di quello che sta l'11 settembre la prima noi abbiamo scoperto io sono entrato in possesso fisicamente di tutti i transfer bancari che sono serviti dei soldi che sono serviti per finanziare l'11 settembre e quando uno ha la pista dei soldi sono dei nomi delle persone che hanno fatto i bonifici le persone hanno ricevuto i bonifici delle persone che hanno emesso degli assegni delle persone che hanno incassato quegli assegni quindi si possono dare delle si possono attribuire delle colpe precise esattamente come se fosse un processo bene se vi racconto intanto diciamo sono entrato in possesso di queste cose attraverso una vicenda quasi da da film giallo con sei mesi di di caccia all'uomo con alla fine appuntamenti in mezzo al deserto del texas a una cabina telefonica in cui squilava il telefono mi si dava appuntamento in un altro posto insomma veramente una cosa molto bizzarra per riuscire a ottenere queste cose alla fine cosa raccontano questi documenti e cosa racconta la persona che ha fisicamente erogato questi soldi cioè le ha iniziato a distribuire anche ai 19 dirottatori per esempio per finanziare le loro lezioni di volo raccontano che il 11 settembre è stato finanziato ufficialmente dallo stato dell'arabbia saudita non da osama bin laden o da qualche soggetto privato dallo stato dell'arabbia saudita usato un attimo dovevo spegnere posso si può interrompere un secondo ecco no no vabbè vai avanti che magari se ti devi fermare un attimo parlo io e ti aspetto stavi spiegando che ci sono delle incongruenze clamorose rispetto al racconto ufficiale di ciò che è avvenuto l'11 settembre con noi non avevamo nessun dubbio però naturalmente il mainstream comincia a raccontare adesso delle parziali molto limitate verità rispetto a quello che è davvero accaduto ma quelli che vengono diffamati come complottisti cioè che non accettano la verità di fede dei padroni certe incongruenze le avevano notate già con larghissimo anticipo ecco non so se è tornato nel frattempo franco prego sì la dicevo il 11 settembre sono finanziato direttamente dallo stato dell'arabbia saudita questi soldi sono arrivati a una banca di manattan sono stati bloccati dal dall'allora procuratore di manattan sud cioè quello che ha diciamo giurisdizione su wall street e perché riteneva sospetti erano 10 miliardi di dollari 10 miliardi allora come sono stati sbloccati sono stati sbloccati perché l'allora sindaco di new york siamo nel 1900 queste cose risalgono nel 1995 96 l'allora sindaco di new york rudolf giuliani in persona ha fatto pressioni sulla magistratura new yorkese per far liberare questi soldi quindi il sindaco di new york rudolf giuliani che tra l'altro oggi credo sia l'avvocato di donald trump insomma però questo non conta lui ha fatto pressioni per liberare questi soldi questi soldi sono stati liberati e hanno riattraversato l'atlantico e sono finiti in una banca italiana gestita da uno cittadino svizzero dichiaratamente nazista di fede islamica sembra sembra surreale quello che sto raccontando però purtroppo è andato così sono finiti su questa banca questo cittadino svizzero nazista di fede islamica ha gestito questo denaro in parte l'ha utilizzato per altre cose dopodiché l'ha rispedito l'ha rispedito di nuovo oltre atlantico questa volta non a new york ma a houston e houston aveva sede perché non esiste più una enorme società una multinazionale che si chiamava enron che era molto vicino all'allora presidente george bush a tutta quanta la sua famiglia e a tutto l'entourage che poi formò quell'amministrazione e la la enron era una società che si occupa di finanziare diciamo finanziare progetti che riguardano l'energia quindi costruzione di oleodotti di gasdotti prospezioni petrolifere o di gas eccetera 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 allora la enron riceve questi soldi li mette su una su una sua sussidiaria diciamo piccolina e questa sussidiaria incomincia a erogarli intanto spedisce parte di questi soldi in pakistan a chi ai talebani perché noi abbiamo fatto una guerra per cacciare i talebani nel 2001 con la scusa l'11 settembre ma quegli stessi talebani sono usciti a invadere a conquistare l'afghanistan grazie a dei soldi finanziati da una multinazionale erogati da una multinazionale dello stesso paese che poi gli ha fatto la guerra e molto legata al presidente che poi gli ha fatto la guerra gli altri soldi sono stati utilizzati per finanziare l'enorme l'enorme complessità di quell'attentato quindi tutte le persone tutte le operazioni sono servite per organizzare l'11 settembre la seconda cosa che trovo incredibile è una storia che riguarda un particolare che noi un particolare aspetto del dell'organizzazione del film zero cioè l'inchiesta sull'11 settembre perché parlo di questo perché dà l'idea anche di chi c'è dietro alle cose allora noi zero è stato un film che poi uscito al cinema è stato distribuito in tantissimi paesi in tutto quel mondo e quindi come tutte le persone che fanno quindi questo genere abbiamo cercato di avere la liberatoria per tutte quante le immagini e non so per quale motivo perché già dicendolo così sembra assurdo me lo dico da me stesso abbiamo deciso di cercare di avere la liberatoria per le immagini che noi mostriamo nel film fornite da al qaeda cioè quelle dove si vedono al qaeda i vari terroristi al qaeda che si addestrano nel deserto quindi campi addestramento le esercitazioni e quant'altro che sono immagini cioè si era detto anche all'epoca immagini trovate in cassette trovate nel deserto sono immagini che hanno mostrato anche in tutti in questi vent'anni tantissime televisioni bene come ci è venuto in mente era già assurdo pensare cioè chiediamo la liberatoria al qaeda come facciamo a rintracciare questi di al qaeda per dirci sì potete utilizzare queste immagini è evidente che non ha senso questa cosa però insomma ci siamo messi per motivi ancora a me oscuri e lo dico a me stesso a cercare i possessori del copyright di queste immagini e grande sorpresa qualcuno aveva il copyright di queste immagini e chi era questa persona questo soggetto che aveva il copyright delle immagini di al qaeda quindi aveva presumibilmente firmato un contratto con non so con biladen o con qualcuno con qualche rappresentante legale di al qaeda e già questo va insomma è strano di per sé che diceva voi potete potete incassare i diritti della vendita di queste immagini e poi ci versati soldi da qualche parte quindi c'era stato anche un conto con qualcuno che riceveva questi soldi quindi diciamo per la polizia sarebbe stato facilissimo per l'fbi a rintracciare e catturare queste persone però fatto sta che decidiamo di parlare con questi soggetti ci scambiamo una serie di mail alla fine ci mettiamo d'accordo e prendiamo un appuntamento allora sapete qual era la sede del di una società perché si tratta di una società che gestiva le immagini le ha continuato a gestire per tantissimi anni in seguito le immagini di al qaeda e poi in seguito le talebani e di tantissimi altri di attentati terroristici di quant'altro cose totalmente illegali bene è una società che ha sede in virginia alla periferia di washington allora noi siamo andati in virginia a parlare con questi signori arriviamo era inverno era buio suoniamo alla porta di questa di questa azienda e il ci vengono aprire tre persone tre persone che per chi ha un minimo di dimestichezza con questo genere di persone erano molto facilmente etichettabili perché avevano i capelli molto corti qui anzi quasi inesistenti qui molto corti sopra la testa camminavano in maniera molto 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 marziale erano chiaramente soldati ed erano chiaramente soldati di carriera e probabilmente di corpi speciali dal modo con cui si comportavano quindi entriamo e ci fanno sedere in una saletta una saletta ovale e ci dicono ma aspettate qui adesso arriviamo intanto se volete leggere qualcuna delle nostre brochure così vi rendete un po conto magari se vi interessa qualche cosa e noi prendiamo in mano queste brochure e ci escono fuori gli occhi dalle orbite perché c'era una brochure che raccontava spiegava come costoro fossero bravissimi nell'insegnare come diciamo tecniche di guerriglia urbana un'altra insegnavano come sequestrare le persone un'altra insegnavano come torturare persone cioè faremo dei corsi specifici queste persone e poi c'erano tutta una serie di brochure sulla vendita di armi ogni sorta di armamenti pesanti leggeri super tecnologici e quant'altro e noi ci siamo guardati in faccia abbiamo detto oddio dove siamo finiti cioè siamo finiti in una specie di azienda di mercenari di soldati di non si capisce di che cosa che fanno queste cose a luce del sole era ci sembrava di essere finiti in azienda di contractors di quelli che lavorano per il pentagono costoro avevano il sottolineo avevano l'hanno avuto per tantissimi anni non so se ancora così il copyright i diritti di tutte le immagini prodotte da al qaeda in qualsiasi sede in qualsiasi modo la terza cosa che vorrei raccontare riguarda invece riguarda il libro burning down 9 11 e riguarda la storia di una persona che è un eroe e che però dà anche il senso di quello che è stato della di quanto è stato anche complicato l'11 settembre di quanto sia sbagliato semplificare le cose anche e soprattutto in questo caso allora i piani dell'11 settembre vengono scoperti dall fbi nel 1995 vengono scoperti perché erano nei mesi precedenti c'erano state una serie di attentati o tentativi di attentati nei confronti del papa giovanni paolo secondo per i viaggi che lui compiva in gioco per il mondo deve a un certo punto compiere un viaggio nelle filippine la polizia filippina per sventare un possibile attentato al papa fa irruzione un appartamento e in questo appartamento scopre i piani dell'11 settembre è il 1995 vi comunica immediatamente alle fbi quindi da quel momento gli stati uniti ufficialmente sanno che ci sarebbe stato l'11 settembre delle indagini si occupa un agente speciale è un agente speciale che si occupa di indagini riguardante il terrorismo islamico questo agente speciale un agente bravissimo talmente bravo che fa carriera diventa il capo dell'antiterrorismo islamico nelle fbi si chiama john hill da anime corpo per cercare di sventare questi attentati nei sei anni successivi veramente fa di tutto riesce a individuare tantissime delle persone coinvolte negli attentati in gioco il mondo cerca di avere gli strumenti per arrestare queste persone o quantomeno per farle arrestare ai vari paesi in gioco il mondo non riesce ad averli anche perché ha contro di lui che gli remano contro lo dice lui stesso gli remano contro interi gruppi di potere all'interno delle fbi quelli che comandano le fbi gli remano contro e gli rema contro anche la scia che fa di tutto per impedire a lui di impedire l'11 settembre quindi sostanzialmente fa di tutto per far sì che l'11 fanno di tutto per far sì che l'11 settembre accada quindi lui e altri agenti speciali l'fbi ingaggiano questa sorta di lotta fatta anche di carta e bollata all'interno delle fbi di posizioni di potere per cercare di ciascuno uno di impedire l'11 settembre l'altro invece di favorirlo di far sì che accada dopo sei anni john hill getta la spugna ci si rende conto che non può fare nulla che le forze contro cui lotta sono troppo potenti e si dimette dall'fbi si dimette il capo dell'antiterrorismo islamico dell'fbi è l'estate del 2001 e subito dopo essersi dimesso cerca lavoro allora lui quando si dimette non ha ancora le idee chiarissime su dove si sarebbero svolti gli attentati perché c'era una rosa di luoghi tra cui c'era anche il World Trade Center e il Pentagono ma c'era una rosa di luoghi dove poi si sarebbero svolti gli attentati dell'11 settembre e lui non ancora non è non è riuscito a scoprire quali di questi in quali di questi avverrà avverranno effettivamente gli attentati e l'altra cosa che non sa sa che sarebbero avvenuti quell'anno ma non sa quando lui cerca appunto cerca lavoro e trova essendo molto bravo trova immediatamente lavoro sapete dove trova lavoro come responsabile della sicurezza del World Trade Center a New York cioè del complesso edifici che contengono le torri gemelle e john neil prende servizio l'11 settembre del 2001 la mattina di settembre entra nel suo ufficio si siede alla scrivania pochi minuti dopo il suo edificio qualche piano sotto verrà colpito da un aereo john neil morirà l'11 settembre del 2001 credo che sia una storia da film questa qui e mi sorprende che hollywood non l'abbia fatto un film su di lui e sulla sua storia anzi diciamo che la cosa non mi sorprende affatto perché come non mi sorprendono mai troppe cose che riguardano l'11 settembre questa di john neil davvero incredibile come coincidenza poi si può chiamare coincidenza una storia così ecco magari la chiamano coincidenza quelli che sono un po troppo eterie che tutto complottismo e che il mondo è fatto notoriamente solo da buoni che dicono sempre la verità senti franco e che il 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 diciamo il proprietario della società che gestiva la sicurezza nelle torri gemelle era il cugino di george bush anche questo è un altro la mettiamo tra le coincidenze pensavo fosse cugino it invece il cugino di bush senti franco tu hai ricostruito i finanziamenti a questo gruppo poi non si capisce bene che gruppo è che avrebbe messo in piedi questo strano attentato è venuto fuori qualche anno fa la notizia che è un certo bandara al saude una cosa del genere detto affettosamente bandar bush ecco ex capo dei servizi segreti dell'arabbia saudita per il tramite della moglie avesse finanziato uno alcuni di questi attentatori è vera questa notizia sì 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 i soldi arrivano tutti dal dall'arabbia saudita e come ho detto la gran parte la massa del denaro arriva direttamente allo era grato dallo stato ci sono fondi di stato dopodiché ci sono fondi nel caso specifico essendo il capo dei servizi segreti diciamo che non che in qualche modo sono fondi di stato anche quelli nel senso lui ha erogato dei soldi dei servizi segreti sauditi quindi sì è una notizia vera senti franco noi abbiamo sentito mazzucco su questa storia dell'11 settembre però lui diciamo contesta proprio la ricostruzione in sé cioè lui dice che è stata tutta una grande messa in scena e quando io gli ho fatto notare dicono che 15 dei 19 dirottatori venivano dall'arabbia saudita però l'arabbia saudita è uno di quei paesi che non è mai stato toccato messo nel mirino dal potere americano tu questo come lo spieghi lui diciamo non ha voluto affrontare nel merito la questione dicendo ma guarda che non è vera neanche questa di serie cioè questa è tutta una scenografia è inutile discutere diciamo delle cose che propongono loro perché tutta una messa in scena c'è troppo radicale secondo te l'impostazione di mazzucco ha ragione no ha ragione che è stata una gigantesca messa in scena l'11 settembre è durato esattamente almeno quello che noi abbiamo assistito tutti quanti a uno spettacolo è uno spettacolo che ci ha talmente sconvolto che noi chiamiamo questo attentato unico evento nella storia con una data perché l'abbiamo fissato nella mente tutti quanti noi sappiamo esattamente cosa stavamo facendo l'11 settembre quando abbiamo saputo dell'attentato quindi è qualcosa di che ci ha che ha sconvolto l'intero pianeta sette miliardi e mezzo di persone a è stato uno spettacolo affascinante cioè per la prima volta abbiamo assistito dal vivo a un attentato in realtà non abbiamo visto nulla e questa la grande contraddizione di quanto è accaduto abbiamo assistito a qualcosa senza real in realtà assistervi abbiamo visto lo schianto di un aereo perché l'altro l'abbiamo visto si può registrare solamente gli ultimi otto secondi abbiamo visto lo schianto di un aereo contro una delle torri abbiamo visto il crollo delle torri fine dell'11 settembre non abbiamo visto nient'altro eppure noi siamo convinti averlo visto e questa è una grande la grandissima forza di chi ha proprio il proposto la narrazione ufficiale perché nel momento in cui ci hanno raccontato una serie di cose noi abbiamo detto nel nostro cervello messi in effetti è così perché noi abbiamo viste queste cose abbiamo vissute non è vero è durato tutto questo spettacolo è durato un'ora e mezzo dalle 8 e 50 del mattino alle 10 e 20 del mattino la durata di un film noi abbiamo assistito al più grande disaster movie della storia e tutto è stato costruito in funzione di questo tutto compresa la narrazione ufficiale cioè è stata uno straordinario spettacolo che aveva come scopo perché si chiama terrorismo per questo motivo terrorismo non è per non serve per uccidere le persone il terrorismo serve per spaventare coloro che sopravvivono lo dice la parola stessa e questo spettacolo dove a spaventare a tal punto gli esseri umani da diciamo convincerli a rendere disponibili a accettare qualsiasi cosa pur di poter vivere tranquillamente questo è lo scopo dell'undi di settembre è questo non è altro e quindi la diciamo questa narrazione diciamo filmica sì ma zucco in questo c'ha ragione dopodiché però il visto che gli attentatori cioè queste persone esistevano veramente anche se ci sono delle storie anche incredibili parliamo di questo esempio mohamed atta che è il più famoso cerchiamo di dare delle risposte precise no se no magari chi ci ascolta non capisce bene quello che stiamo dicendo allora la narrazione ufficiale dice c'era un certo atta che è il capo se non ho capito bene se non il capo comunque uno dei più importanti fra gli attentatori immagino fosse un saudita visto che erano quasi tutti sauditi e questo sarebbe uno di quelli che materialmente ha coordinato sul campo le operazioni allora questo atta esiste è mai esistito uno con nome atta è mai stato in america era su quegli aerei hanno trovato dei riferimenti dei collegamenti con gli altri presunti attentatori qualcuno ha mai sentito i suoi familiari c'è chi è sto atta allora atta era un egiziano non era saudita era il capo del comando degli attentatori quindi era sicuramente una persona centrale la cosa incredibile però è che di mohamed atta ne esistono cinque io lo racconto in burning down an eleven diciamo questi non è solamente il suo caso sono molti altri di questi attentatori che hanno queste identità plurime per cinque non intendo una persona che cambia cinque volte nome intendo cinque mohamed atta che contemporaneamente vivevano in luoghi differenti e che tutte cinque erano mohamed atta non sono pazzo cioè sto dicendo una cosa che è anche difficile da comprendere c'era un mohamed atta che si trovava ad amburgo che viveva una sua vita ad amburgo contemporaneamente e nella storia nella ricostruzione ufficiale di mohamed atta c'è quel mohamed atta contemporaneamente c'era un altro mohamed atta che viveva negli stati uniti e anche questo è il mohamed atta degli attentatori e poi c'era un mohamed atta che stava in egitto e così via e questi cinque mohamed atta che vivevano in contemporanea e che hanno formato la storia di mohamed atta facevano cose strane facevano cose strane cioè non so come dire si comportavano non come si comporta qualcuno che voglia organizzare al di là che non si comportavano come un estremista islamico ma quello magari diceva messi però un estremista islamico e si vuol far passare per qualcun altro per non farsi beccare magari beve alcol fa finta di nulla no si comporta come una persona normale cerca di rendersi invisibile c'è lo scopo di una persona che sta per fare un attentato è rendersi invisibile per poter raggiungere diciamo integro il momento per poter poi fare l'attentato questo è la logica più elementare che ci direbbe una cosa del genere bene invece questi cinque mohamed atta hanno fatto di tutto ma realmente di tutto per farsi notare e perfino arrestare cioè sono in giro a minacciare persone a strombazzare quattroventi cose immaginate eppure immagino di film di mafia fatti da scorsese insomma la mafia italo americana insomma cosa nostra negli Stati Uniti ne abbiamo visti tanti abbiamo visto tanti di questi diciamo bulletti mafiosi che vanno in giro sapendo della loro impunità e minacciano le persone ecco e atta era un personaggio del genere è un personaggio che cercava in ogni modo di farsi notare e spesso di farsi arrestare e non veniva né notato né arrestato e tutti e cinque in mohamed atta perché appunto c'è questa pure questa dissociazione tra i vari personaggi ecco questo dà un po l'idea di quello che erano gli attentatori e in tutte quante queste ricostruzioni però manca un tassello tutti ma proprio tutti e 19 anzi 20 di attentatori 90 uno era stato arrestato prima tutti e 20 gli attentatori sono stati addestrati in campi di addestramento nella bosnia erzegovina non in afghanistan nella bosnia erzegovina dove si trovava la base di alcaida noi abbiamo fatto la guerra all'afghanistan che non c'entra assolutamente nulla anche questa è una cosa che è di fatto sconosciuta della bosnia la bosnia non è stata mai tirata in ballo rispetto a questa storia senti franco un'altra cosa c'è chi dice che questi attentatori non erano in grado di guidare neanche in triciclo figuriamoci in boeing come quello né di prendere diciamo in maniera così chirurgicamente esatta quelle quelle torri insomma che si tratta di una vicenda incredibile cioè per uno del mestiere è uno che sa come funziona guidare questi aggeggi che vede il profilo di questi scienziati dice guarda insomma è una barzelletta è vero anche questo sì è vero anche questo noi abbiamo sentito intervistato gli addestratori gli istruttori di volo di queste persone e ci hanno raccontato di persone che facevano cose assurde uno stava voleva imparare solo come volare con l'aereo senza farlo senza imparare come decollare o come atterrare e ovviamente questa persona ha detto scusi per farlo volare prima decollare e non riusciva cioè non riusciva nemmeno a capire questo semplice concetto uno di questi era considerato uno scemo dal suo istruttore cioè non è in grado di comprendere nulla la maggior parte questi non parlavano l'inglese e senza comprendere l'inglese ovviamente non potevano capire nemmeno le lezioni due di questi qui hanno provato a far decollare un piccolo aeretto ma di questi proprio sfigati che si vedono nei campi di volo e non riuscendolo a far partire perché hanno incontrato a fare manovre assurde e così via l'hanno abbandonato in mezzo alla pista cosa per la quale non non gli poteva c'è una cosa del genere diciamo ti marchi a vita tu non puoi più ottenere nessuna licenza di brevetto di volo di volo più da nessuna parte quindi non ti puoi più presentare nessuna altra scuola di volo invece sono presentati hanno avuto la licenza e quant'altro erano degli incapaci degli inetti inetti per di più le manovre che hanno portato a quegli schianti sono invece manovre fa che sarebbero difficili se fatte da un pilota molto molto ma molto esperto e sarebbero molto 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 difficili nel senso che ci hanno spiegato i piloti molto esperti sia civili che militari che manovre del genere anche con un fatte con un boeing anche fatte da un pilota espertissimo avrebbero alte probabilità di non riuscire senti franco altre altre cose insomma sono state spesso dibattute poi liquidate dal maestrime come paturnie complottiste cioè il fatto che è caduta anche la terza torre mai colpita da nessun aereo ecco questo è vero o no che ne è caduta anche una terza di torre che nessuno ha mai colpito nella narrazione ufficiale esattamente l'edificio 7 perché il water center aveva gli edifici i numerati 1 e 2 erano torri gemelle poi continuavano 3 4 5 6 7 8 9 10 erano 10 edifici edificio 7 un edificio di quasi 300 metri di altezza quindi stiamo parlando di un edificio gigantesco credo 56 piani non vorrei sbagliarmi è crollato alle 5 di pomeriggio dell'11 settembre così dal nulla senza essere mai stato colpito nessun aereo e è crollato anche in questo caso come le due torri alla velocità della caduta libera perché sottolineo questa cosa perché se uno prende un sasso da 300 metri d'altezza e lo fa cadere nel vuoto questo sasso cade a una certa velocità cioè arriva a terra in x secondi ma se io faccio crollare un edificio quest'edificio ha se ha 56 piani ha un piano che cade sopra ciascun piano cade su quello di sotto quindi la caduta subisce enormi rallentamenti quindi invece di metterci non so sei secondi ci mette due minuti a fare o comunque ci mette un minuto 40 secondi 50 secondi ci mette molto più tempo perché non è caduta libera sotto ci sono altri 55 piani con un sacco di roba no la caduta libera quando non trova nessun ostacolo bene l'edificio 7 è caduto esattamente la velocità di caduta libera ovvero l'ultimo piano sotto di sé come se non avesse nessun ostacolo perché tutti i piani sono crollati all'unisono senti franco e come l'hanno spiegata gli esperti del governo cioè si è caduto per lo spavento per solidarietà con gli altri piani cioè la scienza come l'ha spiegato immagino diciamo così per emozione è caduto per secondo loro per degli incendi che si erano sviluppati in seguito al crollo delle torri alcuni pezzi diciamo incandescenti del crollo delle torri erano finite in questo edificio e peraltro solo in questo mentre c'erano pure altri edifici nel World Trade Center comunque insomma l'edificio ha preso fuoco in alcuni suoi punti e quindi è crollato così insomma sarebbe però noi abbiamo visto anche dire genere non mi azzarderei a salire più se nessun edificio più alto di 20 piani perché se basta un piccolo incendio per far crollare l'intero edificio mi sembra una cosa peraltro la storia ha dimostrato che mai sottolineo mai nessun edificio in acciaio è crollato per un incendio ma i perché gli edifici in acciaio non possono crollare a causa degli incendi ecco no proprio questo volevo segnare noi abbiamo visto negli ultimi anni mi pare a Madrid un palazzo avvolto dalle fiamme per ore diciamo forse per giorni mai crollato è rimasto lo scheletro annerito anche a Londra anche c'è una cosa insomma anche questa è una è una cosa particolare molto originale è successo solo lì una piccola ci sono un altro paio di cose strane il pentagono è mai caduto davvero un aereo sul pentagono è quell'altro aereo che hanno ritrovato lì in mezzo alla campagna dove insomma da cosa c'è un altro aereo che è sparito che poi sono quattro quelli gli aerei spariti no in volo due avrebbero colpito le torri uno il pentagono e un altro insomma non si è capito bene sarebbe finito in un luogo diciamo così isolato ecco quegli due li abbiamo visti veri o falsi che fosse ci sono le immagini che vanno a sbattere contro quelle torri va bene ma gli altri due sono andati lì per davvero c'è una prova che sia andato così allora l'aereo che è caduto in Pennsylvania di quell'aereo non ci sono tracce molto semplicemente non esistono tracce è stato lo ha raccontato anche il coroner di Shanksville che è il posto dove è avvenuto dove è caduto l'aereo lo ha raccontato lo sceriffo di quella contea sono arrivati lì e non c'era nulla c'era un buco e basta c'era un buco senza nulla dentro allora giorni dopo sono stati ritrovati dei piccoli se era con la mente intorno era una famosa caramella quel buco però se non c'era manco la mente vede che no era un'altra cosa è un buco a forma d'aereo quindi una cosa strana ci sembrava quasi un cartone animato allora per giustificare questa cosa la teoria è stata ci sono state due teorie una che mentre cadeva si è sfaldato in volo e quindi non è arrivato nulla a terra e quindi tutto disperso per chissà dove la seconda è invece quella più accreditata l'aereo ha colpito il terreno ha rimbalzato sul terreno ed è schizzato chissà dove si è sfasciato nel corso del rimbalzo beh questa pure pare incredibile probabilmente se c'era il gabibbo alla guida senti esattamente invece il pentagono del pentagono non esistono il pentagono c'erano ben 59 telecamere che hanno filmato il passaggio dell'aereo 59 telecamere di queste telecamere non c'è più traccia perché non c'è più traccia perché ascoltati i luoghi che erano telecamere di benzinai di uffici e quant'altro anche del pentagono stesso cosa è successo uomini dell'fbi questo l'hanno raccontato coloro che avevano le registrazioni di queste telecamere quindi i 59 soggetti che avevano queste queste le immagini sono arrivati uomini dell'fbi e hanno sequestrato tutto bene le immagini di queste 59 telecamere sono sparite sono state fatte solamente vedere le immagini di due telecamere del parcheggio del pentagono che erano dei frame no di che inquadravano esclusivamente diciamo l'area antistante il pentagono e in queste immagini che sono state mostrate anni 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 dopo in ogni caso sono hanno lo stesso punto di vista quindi sono immagini praticamente identiche in queste immagini sono in realtà tre frame tre in cui si vede qualche cosa non si capisce che cosa perché veramente sfido chiunque a capire che cosa sia potrebbe anche essere un fantasma quello che passa là davanti e si vede un'esplosione fine di quell'immagine non si vede nulla nulla di nulla e aggiungo io noi abbiamo trovato abbiamo fatto delle perché come ho detto prima abbiamo visionato tantissime immagini tra cui le immagini della PBS che è la rete pubblica statunitense i camerami della PBS sono arrivati al pentagono subito e hanno filmato quello che vedevano allora cosa si vedeva si vedeva un edificio integro integro sottolineo la parola integro non ne ha crollato assolutamente nulla non c'era c'era solamente un incendio da una parte fuori dall'edificio dove c'era una specie di generatore di corrente che era andata a fuoco il prato era perfetto in tonso prato perfetto in tonso e c'era da una parte piccolina buttata così su questo prato perfetto in tonso una specie di pezzo di lamiera largo non lo so era stato largo più o meno di queste dimensioni qui e su questo pezzo di lamiera c'era scritto American Airlines dove si capiva era solo il pezzo di lamiera dove si capiva il modello dell'aereo cioè la compagnia dell'aereo fine non c'era c'era solo questo pezzettino qui non c'era altro e poi c'era davanti si vedeva chiaramente da queste immagini davanti al pentagono in un pezzettino c'era un buco un buco largo tre metri tre metri un buco largo tre metri dove teoricamente sarebbe entrato l'aereo è come se lo sottolinea Dario Fon nel film è come se l'aereo improvvisamente tipo un un volo di uccello avesse deciso di boom chiudere le ali e infilarsi peraltro la fusoliera dell'aereo è più larga di tre metri quindi restringersi e chiudere le ali per entrare in questo buco non c'erano nemmeno i segni del motore che sbatte contro contro il pentagono e tutte le finestre intorno a quel buco finestre sottolineo finestre quindi con il vetro intatte queste sono queste non sono mie fantasie sono le immagini immediatamente successive all'impatto dell'aereo dopodiché le immagini invece sono state mostrate di un'ala del pentagono crollata questo crollo avviene un'ora dopo queste immagini girate senti Franco che fine hanno fatto le persone in carne d'ossa che davvero su questi aerei sono salite perché se diamo per buono che non è scoppiato nessun aereo lì nessuno può credere a queste fandoni a parte forse insomma qualcuno che segue Mentana però gli altri che non lo guardano ogni giorno fanno fatica a credere alla veridicità di queste ricostruzioni però quelle persone sono salite davvero su quegli aerei quelle persone sono morte per davvero abbiamo ascoltato anche delle telefonate drammatiche di gente che diceva che stava reagendo non sappiamo se anche queste erano parte della sceneggiatura che naturalmente il mainstream veicola e fa conoscere quello che ha interesse a far conoscere però quelle persone sono morte davvero se noi diciamo che non erano non sono morte lì contro il pentagono cadendo in Pennsylvania dove sono finiti quelle sventurate anime che sono salite su questi aerei allora dove sono finite è l'unica cosa perché si sa veramente tutto l'11 settembre è l'unica cosa realmente misteriosa dell'11 settembre sono morte non ci sono più e va bene dove siano finiti questi aerei non si sa quel che invece è certo è che le telefonate tutte le telefonate fatte dagli aerei e fatte ascoltare sono tutte ma proprio tutte false dalla prima all'ultima e certo per vari motivi primo all'epoca nella tecnologia dell'11 settembre 2001 non permetteva ai cellulari di chiamare degli aerei secondo entrambi quegli aerei sia quello finito tutte e quattro perché le telefonate sono state prese da tutte e quattro gli aerei e tutti quanti questi aerei viaggiavano hanno attraversato intere zone di territorio statunitense in cui non c'era campo semplicemente non c'era campo anche se fossero stati a terra fermi non avrebbero potuto chiamare per di più negli Stati Uniti all'epoca c'era questa cosa per cui tantissime compagnie telefoniche ciascuna aveva una diciamo delle zone copriva delle zone differenti e ogni volta che si passava da una zona all'altra cambiava il roaming cioè c'era un passaggio che ti fa perdere qualche secondo per poter cambiare il roaming queste cose qui fatte dalla velocità di un aereo che va a 800 km ammesso che fosse possibile telefonare a quegli aerei avrebbe fatto cadere la linea potrei continuare però vi assicuro che quelle telefonate erano impossibili come è possibile questi hanno chiamato erano le voci erano le loro allora io racconto in Burning Down an Eleven nel libro di come è stato organizzato racconto di varie cose che riguardano il pentagono tra cui anche questa cosa qui un giornalista del Washington Post quindi non un giornaletto qualsiasi del Washington Post il giornalista si occupa del pentagono per conto del Washington Post due anni prima quindi siamo nel 1999 viene chiamato dal pentagono si reca in una base delle forze armate statunitensi e assiste a un'esercitazione in cosa consiste questa esercitazione dicono lei si sieda ed incominciano a conversare con lui dopo finita questa breve conversazione improvvisamente lui sente da un da un alto parlante lui cioè lui la sua voce che racconta delle cose non è lui che sta parlando sono cose che lui ne ha mai detto in tutta quanta la sua vita ma lui sta raccontando delle cose come è possibile gli illustrano perché l'hanno chiamato per illustrargli per far pubblicità vedete quanto siamo fighi i soldi dei contribuenti vengono spesi bene guardate che diavoleria abbiamo siamo usciti a inventare la diavoleria era riuscire a riprodurre la voce di chiunque registrandone loro dicono era sufficiente registrare otto secondi la voce di qualcuno per riprodurne esattamente la voce e quindi per poter fargli dire a questa persona qualsiasi cosa adesso non c'ho nessuna prova che dica che questo marchigennio delle forze armate degli Stati Uniti progettato due anni prima quindi immagino due anni dopo funzionasse enormemente meglio fosse stato utilizzato realmente l'11 settembre questo non lo posso dire quello che posso dire è che queste telefonate non ci sono mai state le voci delle persone sono ascoltate e le voci sono quelle reali delle persone quindi diciamo qualche sospetto che sia andato in questa maniera qui viene Franco ti faccio un'ultima domanda so che a te non piace fare ipotesi specie quando non hai diciamo certezza o elementi che ti portano ad avanzare tesi però evidentemente leggendo tantissimi documenti studiando le carte intervistando la gente conoscendo anche il potere perverso che ha architettato tutto questo un'idea te la sarai te la sarai fatta che qual è secondo te qual è l'ipotesi più probabile rispetto alla fine di questi che siano stati che sono partiti è vero che sono decollati è sicuro e poi una volta decollati i radar li hanno persi oppure raccontano la storia ufficiale c'è possibile che non ci sia nessuno che conosce questa storia che sa nessuno che ha avanzato un'ipotesi più credibile delle altre allora ieri sono decollati i radar tutti i radar civili a un certo punto li hanno persi li hanno persi per più di mezz'ora tutti quindi una volta persi potrebbe essere accaduta qualsiasi cosa e qui si va nel campo delle ipotesi cioè questa qualsiasi cosa allora ma dico stati stranieri che magari controllano le cose non potranno conoscere magari per dire i servizi russi o cinesi potranno sapere cosa è successo probabilmente lo sanno pure però semplicemente non conviene a nessuno dirlo non lo so fatto sta che esiste di tutte quante queste cose qui c'è una cosa strana che non ha avuto riscontri e quindi non lo so se poi sia andata realmente così oppure no il sindaco di Sinsinnati quindi non uno qualsiasi ma il sindaco di Sinsinnati racconta di lui sostiene che l'aereo che è finito contro mi pare sia quello contro il Pentagono non vorrei sbagliarmi l'aereo finito contro il Pentagono è atterrato a Sinsinnati quella mattina da quell'aereo sono stati fatti scendere i passeggeri e che sono stati fatti salire su un altro aereo che poi è decollato questa è la testimonianza del sindaco di Sinsinnati al momento delle stragi cioè lui ha raccontato questa cosa è uscita su dei giornati dell'11 settembre quando ancora non si sapeva nulla della versione ufficiale quando ancora c'era un caos totale lui racconta questa cosa questa cosa racconto fatto registrato sia fatto ascoltare all'epoca sia diciamo scritto in interviste che sono uscite in cui lui dice queste cose qui dopodiché non sono più state ripetute questa è l'unica cosa diciamo appiglio quantomeno concreto che però non è stato appunto più verificato di ipotesi di vario genere per il resto uno può fare ciascuno di noi può fare l'ipotesi che vuole senti Franco in una battuta quelli che stanno oggi cavalcando il terrorismo sanitario sono gli stessi che hanno preparato il terrorismo islamico diciamo molto semplificando potrebbero essere gli stessi ecco Blair ce lo ritroviamo sempre per esempio dappertutto è una costante è un sempre verde c'è sempre Blair di mezzo questo non c'è dubbio ecco magari lo affronteremo nella prossima intervista e questa di carne al fuoco ne abbiamo già messo d'altronde tu qua ormai sei di casa non facciamo in tempo a chiudere il collegamento sono sicuro che stai spornando un nuovo libro facciamo vedere intanto questi in conclusione eccoli qua questi sono i libri di Franco fracassi sull'11 settembre vi ricordiamo anche il suo film che abbiamo mandato prima qualche spezzone lo abbiamo mandato in onda film e documentari sull'11 settembre prego Franco volendo questi due libri volendo questi due libri più il documentario zero che è l'inchiesta sull'11 settembre più il documentario one che è il sequel di zero che è l'inchiesta su al-qaeda più tutto il pacchetto che insomma avevo già offerto per sull'Afghanistan che in qualche modo è legato alle vicende dell'11 settembre quindi Afghanistan film Afghanistan film blue ghost più missione oppure tutto questo insieme si può richiedere sia tutto insieme sia singolarmente scrivendo un'email a francofracassi1 chioccio gmail.com francofracassi1 chioccio gmail.com che è la mia email personale voi mi scrivete vi spiegherò come fare ad ottenere uno o un singolo libro tutte quante queste cose messe insieme grazie Franco per essere stato con noi grazie a voi bene cari amici di Visione TV si conclude qui questo nostro nuovo approfondimento noi cerchiamo sempre di demistificare gli imbrogli che ci vengono raccontati adesso ma per comprendere la malizia la perfidia di questo potere è bene ricordare anche le menzogne del passato più o meno recente questo è il nostro compito il nostro obiettivo non abbiamo finanziatori a parte voi potete aiutarci donando i numeri che la regia ha appena mandato in sovraimpressione oppure o in aggiunto in alternativa abbonatevi sul nostro sito www.visionetv.it sito che da poco tempo è diventato una vera e propria testata online con articoli pubblicati a ritmo incessante grazie a tutti voi alla prossima grazie a tutti